C'è un sospettato per l'omicidio di Fabrizio Vallo, il pregiudicato di 47 anni che giovedì sera è stato raggiunto da ben 13 colpi di pistola praticamente davanti la porta di casa in viale del sommergibile a Ostia. I carabinieri hanno fermato un siciliano del 68, proprietario dell'auto parcheggiata in via Bignami a Fimicino, all'interno della quale, come vi abbiamo anticipato per primi ieri sera, sono state rinvenute 5 pistole dell'esplosivo. L'uomo, trovato in possesso di una 357 magnum carica, è stato inizialmente trattenuto per porto abusivo e detenzione illegale di armi, ma pare che nei giorni scorsi abbia avuto un diverbio proprio con la vittima dell'agguato. Il sospettato ha precedenti per tentato omicidio associazione mafiosa, tutt'altro pedigree criminale dunque rispetto a Vallo, che non viene considerato una figura di spessore nel panorama malevitoso del litorale romano. La prova dello stab di cui si dovrebbe conoscere l'esito nelle prossime ore, dovrebbe quantomeno rivelare se il siciliano abbia maneggiato un'arma di recente, accertando l'eventuale presenza di particelle di polvere da sparo sulle sue mani. Non è ancora chiaro il contesto in cui è maturato l'omicidio e gli inquirenti mantengono il massimo riservo sulle indagini. Il cellulare di Vallo potrebbe in tal senso essere di grande aiuto.